ecco questi è i primi scappestrati fisici o fisici eccezionali c'è qualche panzo che perché ha proprio apposta per la giornata fredda ha messo su oma abbiamo anche vedo qui una babbo natalino piccolina che quest'anno non fai il bagno ma per st'altro anno forse sei pronta vero a il reverendo reverendo eccolo qui nella tutta sua meravigliosa bellezza che distribuisce benedizioni a destra e a manca a go go oggi tutti buoni bene reverendo reverendo me genufletto qui tra poco messaggi siamo pronti c'è il re dei fotografi tiffi che manderemo su youtube ah il mitico vladimiro riga c'è forse da dare bombi a qualcuno voglio sfruttare pure lui poi babbo natale in accappatoio arancione giallo gruppo di avventori sparniciati per la spiaggia piccinacchi con canne da pesca sabbia sabbia moscioli poi si avviciniamo al titolare dello stabilimento walter con la v di no di water con la v di vicenza è walter walter questo è walter nella suo meraviglioso accappatoio se eccolo qui meraviglioso accappatoio di colori sgargianti noti per portare fortuna bene la miseria quindi corto poi c'è un altro cameraman e poi c'è de profilo giovane ai tante e il fiolo del bagni walter di esatto poi c'è il profilo de un babbo natale scudo eccolo vedi de profilo stu babbo natale con una bella tripa c'è anche la slitta che per andare a fare il bagno ce vuole e poi ci avviciniamo a stu babbo natale col cappello a molla e scopriamo calzetto meraviglioso tattico bello ci avviciniamo qui poi seguirà il taglio del panetto e del pandoro e la bevutina dello spumantino albero natale cagnolini che passeggiano e al nostro amico vinicio a c'è l'aviatore babbo natale che gli e se scappocollate le renne è venuto giù con l'apparecchio bello stu cappello dove l'hai trovato mister fabio è dall'ultima guerra è il giapponese che si è schiantato qui davanti bene con una visione del mare e i scoi ve saluto